Ore giapponesi di Fosco Maraini. Una di quelle giornate così, che sono poi le più belle. Si doveva salire al monte Iei con i Bamba, ma invece loro sono dovuti improvvisamente partire. Mentre stavo pensando come impiegare il pomeriggio, mi ha telefonato Somi. C'è qui un mio amico di Tokyo, vorrei condurlo a Dohara, vieni con noi. Piuttosto venite anche voi con me, vi porto tutti in checca, anche se sgangherata è sempre una macchina, si resta indipendenti dagli orari delle tranvie. L'idea di salire a Dohara mi è piaciuta, avevo già una mezza intenzione di andarci in sopralluogo, volendo girarvi poi alcune scene del documentario in cantiere. Mentre stavo uscendo di casa è sopraggiunto anche Jun, Kumagai Jun, che non vedevo da molto tempo. Così abbiamo finito per trovarci in 2004. Prima nessuno, ora una piccola folla. Jun avrà circa 30 anni, è medico e lavora in ospedale. Quando abitavo a Kyoto era ancora studente. Un giorno capitò a casa mia col dialogo dei massimi sistemi in una rara edizione del 600. L'aveva trovata ad Osaka da un venditore di libri usati, pagandola una sciocchezza e naturalmente voleva imparare l'italiano per leggere Galileo nel testo originale. Siccome parlava correttamente il francese, non era difficile insegnargli una lingua la quale, vista dalle lontananze orientali, gli è similissima. Le nostre lezioni cominciarono ben presto. Partivamo dalle parole di sagredo o di simplicio per terminare invariabilmente con i massimi sistemi delle 26 civiltà. A differenza di molti giapponesi, Jun amava discutere di qualsiasi cosa, soprattutto di religione. Mia madre era cristiana, diceva. Ottima cosa, bellissima cosa, ma tu non sai che cosa siano i cristiani giapponesi. Non immagini neppure a che silenziosi pinnacoli d'eroismo possono arrivare. Non sono più persone normali, perdono ogni senso di misura. Questo no, quello no, i peccati nascono e crescono come un bosco da tutte le parti, diventano una foresta, sono stato elevato in un'atmosfera d'eterno funerale per una morte avvenuta duemila anni fa. La conversazione di Jun mi interessava moltissimo. Attraverso di lui potevo farmi un'idea, almeno in alcuni importanti contorni, di come gli orientali considerino il cristianesimo. In occidente noi viviamo una specie di assurdo millenario compiacimento. Siamo persuasi di essere non solo i più bravi, i più belli, i più buoni, i più tutto, ma anche i prescelti degli dèi, i possessori delle chiavi del mondo. Pensiamo che il cristianesimo sia talmente superiore a qualsiasi altra forma di vita spirituale che al suo mero apparire sull'orizzonte tutti debbono abbracciarne gli insegnamenti con entusiasmo. Questo atteggiamento costerà nel futuro non solo gigantesche delusioni, ma sangue e miseria senza fine. Guardiamo invece i fatti negli occhi. Come è avvenuta fino a oggi la diffusione del cristianesimo nel mondo? Essenzialmente in due modi. O con la predicazione, dove esso ha trovato dinanzi a sé religioni in rovina o il vuoto, mondo pagano ellenistico romano, mondi pagani celtico, germanico, slavo, civiltà primitive, principalmente Africa e Polinesia. Oppure con la violenza alle armi, come avvenuto soprattutto nelle ex colonie spagnole, Messico, America del centro e del sud Filippine. Ma quando il cristianesimo si è trovato dinanzi alle grandi civiltà dell'Asia, i confini sono rimasti fermi per millenni. Neppure il peso immenso del successo pratico di un'Europa del XIX secolo, colma di straordinarie magie scientifiche e di ricchezze mondane, è riuscita a fare accettare il bagaglio spirituale dei conquistatori, se non in maniera irrisoria e spesso per convenienza. Dunque è un fatto indiscutibile. L'Asia non vuole il cristianesimo. Perché? Ci debbono essere delle ragioni importanti, serie, vere. Val la pena di conoscerle, di studiarle attentamente. Oppure dobbiamo continuare a vivere in eterno circondati dalle più infantili illusioni. Mentre ogni orientale fosse pur di cultura mediocre, sa bene che noi, riferendoci agli asiatici, parliamo correntemente di pagani, di idolatri, di povera gente che non ha goduto il beneficio della rivelazione e così via, da parte nostra non ci si occupa minimamente di penetrare il loro pensiero, di sentire cosa si pensa laggiù del nostro modo di vedere. Qualche dotto teologo scrive un trattato confutando, che so io, il buddismo e crede che tutto sia concluso. Come mettere una pentola al fuoco. Dopo un certo numero di minuti l'acqua bolle, si fa la minestra. Ma una confutazione valida per le menti occidentali può essere benissimo che non significhi nulla per una delle menti formate in maniera diversa. Qui si torna di nuovo alla sicumera spirituale dell'Occidente. Noi siamo gli eletti, gli altri sono gli aberranti, i poveri ignoranti che brancolano nel buio. Questo atteggiamento porta dritto agli odi ed infine alle guerre. Bellissime le vostre teorie, diceva per esempio Jun. L'amore, la benevolenza, la fratellanza universale, che la povertà è più nobile della ricchezza e che se ti picchiano di qua voltati di là e ti picchino ancora. Ma poi non siamo così stupidi come credete. Guardiamo anche i vostri atti. Come individui non mi sembra di vedere grandi differenze da noi. Avete gli eroi, avete la massa, avete i farabutti, i bei principi. Vengono cioè vissuti da alcuni, rispettati più o meno dai più, disprezzati dei pochi. Fin qui tutto regolare. Ma quando vi presentate come totalità, come nazioni, allora cadete completamente. Non ce n'è una che si salvi. Siete la più fiera collezione di pirati, di briganti, di violatori di ogni principio, che si appassa sulla terra. Soltanto la forza e la paura vi fermano. Tutta la storia dell'Asia, all'epoca delle scoperte ad oggi, lo dimostra. Non importa far nomi o ci tardate. Allora? Allora non ci resta che concludere. Il cristianesimo è una gigantesca ipocrisia, un'arma come le altre per asservirci. Al che rispondevo che non bisogna giudicare una serie di principi dal modo col quale sono messi in pratica. L'uomo può benissimo fallire, anzi forse fallirà sempre. Anzi deve fallire, se no sarebbe Dio. Ma le stelle restano alte nel cielo, intangibili e sacre. Verissimo, riconosceva Giun. Ma le vostre stelle non sono poi che le nostre. Le nostre religioni ci hanno insegnato molto prima di voi l'amore universale, la lealtà verso la famiglia, gli amici, i governanti, il valor sacro della vita. Perché cambiare allora? Qui Giun toccava un tasto importantissimo. Gli orientali sono infatti d'accordo con noi sul sublime valore etico degli insegnamenti cristiani, del resto profondamente simili a quelli del buddismo, ma non vedono la necessità di legare questa parte del messaggio a un gigantesco dramma cosmico che si svolge sulle scene del mondo e del tempo, con un Dio tripartito ed un essente creatore di cose, da angeli e d'uomo, i quali angeli poi si rivoltano inorgogliti, dando luogo al male e trascinando nella loro caduta, dopo altri vorticosi e pittoreschi episodi, fra nudità, serpi, frutti e rimbombi celesti, l'uomo stesso sull'orlo dell'abisso. Donde gli viene, tratto a salvamento dal figlio di Dio, incarnatosi nel ventre d'una vergine, è pronto a soffrire per amore del genere umano un supplizio espiatorio, al quale egli miracolosamente, pur morendo, sopravvive per salire anima e corpo in gloriosa apoteosi al cielo, non senza aver visitato, verosimilmente, ad Orfeo e ad Izanagi, gli inferi, per sedere infine alla destra del padre, in attesa ad un giudizio supremo dell'umanità alla fine dei secoli. Come in un balletto che avesse Michelangelo per coreografo, Dante per librettista, Bach per musico e l'universo per scena, il meraviglioso filo si dipana, tra vergini, paradisi, agonie, stelle, diavoli, misteri, il cuore dell'uomo e le profondità delle notti eterne, ma è mito, favola, invenzione, fantasia, non se ne capisce l'opportunità sul piano della serena meditazione filosofica. Noi ci giustifichiamo dicendo, sono verità rivelate. Gli orientali concludono invece, è pura superstizione e le cose restano lì per millenni. Ciò che mi ha sorpreso fin da ragazzo, diceva altre volte Jun, e ciò che mi sorprende continuamente ancora adesso è il fatto che voi occidentali, a cui dobbiamo le meraviglie della matematica, il rigore del sapere scientifico, l'arte di dominare la materia e di organizzare gli eventi, date poi un'importanza assolutamente spropositata a questi strani miti, a queste teogonie, teofanie, escatologie fantasiose dai remiti visionari. E se fosse il caso di pochi qua e là, lo si potrebbe ancora capire, ma più o meno ci tenete tutti, anche i tiepidi, anche quelli che non praticano alcuna forma. Si sente che sono cose d'enorme, vitale, terribile conseguenza per voi. Vi assicuro che siete la gente più imprevedibile e contraddittoria che si possa immaginare. Qui la sua reazione esprimeva un comune modo orientale di vedere l'Occidente. Nelle civiltà dell'Asia i rapporti fra religione e filosofia sono assai diversi che da noi. Anzi, come ho già ricordato più volte, è inesatto parlare di religione e filosofia, termini, concetti dell'Occidente nati e cresciuti nella sfera delle nostre civiltà ed applicabili solo ai fenomeni delle nostre civiltà. Usando dunque queste parole come semplici cartelli indicatori verso certe direzioni, si potrebbe dire che le religioni orientali, anche il buddismo, eccezione fatta per alcune forme, sono molto meno mitologiche del cristianesimo. La rivelazione c'è, ma vi si parla di pensieri, di filosofia, non tanto di drammi celesti. La mente orientale sente con profondo convincimento da affrontare le spiegazioni della vita sotto l'impero della ragione. Ragione che a sua volta è qualcosa di diverso dalla nostra, forse meno analitica e cerebrale, piuttosto un frutto totale della personalità. Il cristianesimo sembra perciò incomprensibile, legato a miti fantastici, miti poi nati e cresciuti in lontani endocosmi, nutriti di filosofia greca, rappresentati dall'arte d'Europa, incarnati in tipi fisici esotici, ingrati, spesso ripulsivi. Per l'occhio dell'orientale, infatti abituato a concepire la divinità sotto l'aspetto sereno del Buddha in meditazione, il Cristo in croce produce lo stesso effetto di meraviglia, disgusto e curiosità che certi bodhisattva danzanti, nella cerchia delle loro tante braccia, con teste di mostri e collane di crani, possono generare nell'animo dell'occidentale, che li vede per la prima volta. Per di più ci sono alcune dottrine particolari, diceva Jun, quando riusciva a portarlo su questo terreno, che sono o del tutto incomprensibili o difficilissime da accettare per noi. Il peccato originale, per esempio, la distinzione eterna fra uomo e Dio, l'estremo individualismo cristiano per cui uno, battezzandosi, potrebbe andare comodamente in paradiso mentre i propri antenati pagani vagherebbero nell'impo. Cosa empia ed assurda. La dottrina del peccato originale si trova infatti in assoluto contrasto con ogni insegnamento a cui l'uomo in Asia è stato abituato sin dalla più tenera infanzia. Il confucianesimo e lo scinto sono nettamente ottimisti riguardo alla natura dell'uomo e al suo finale destino. Il buddismo è considerato in una filosofia pessimista e lo è sotto un certo aspetto perché nega la realtà e l'importanza del mondo, ma da un altro lato è profondamente ottimista, poiché tutti, anche il misero pesce del mare e lo schifoso verme della terra, nonché naturalmente l'uomo, alla fine di tutte le fini diventeranno Buddha. Su uniranno dissolvendosi nel nirvana all'assoluto. Per millenni milioni di cinesi e giapponesi hanno studiato su libri in cui ricorre in maniera costante l'asserzione l'uomo è fondamentalmente buono. Vai ad insegnare adesso proprio l'opposto. Per far capire la dottrina del peccato originale e della redenzione bisogna prima distruggere la credenza che l'uomo sia naturalmente buono, poi re solo cattivo, perverso e perduto, ci si può apprestare a ridimerlo. Che inutile giro obietta la mente orientale a questo punto. La distinzione metafisica, eterna, assoluta fra Dio e mondo, fra Dio e creature, è un altro articolo di fede che contrasta profondamente col senso tutto orientale della divinità come diffusa nella natura e negli uomini. Non si tratta di un panteismo preciso, ma piuttosto di una poetica inclinazione dell'animo. Eppure essa è sempre presente e le dottrine straniere piombano da fuori lacerando senza pietà tutta una rete di dolci ed antichissime relazioni fra l'uomo e il mondo. Per i buddhisti più coscienti delle proprie tradizioni si tratta del punto in cui le due religioni sono davvero irreconciliabili. L'irrealtà dell'Io da una parte sta di fronte all'eternità individuale dell'anima dall'altra. L'unità nell'assoluto di tutte le distinzioni sta di fronte al dualismo finale di creature e creatore. Poi, osservava Giun spesso, come si fa a sapere che cos'è il cristianesimo? Ce ne sono centinaia di varietà diverse ed ognuna sembra, a sentire i missionari, quella vera. Mettetevi almeno bene d'accordo prima di venire a presentarci le vostre fedi. Come stanno le cose? Adesso vi date addosso gli uni e gli altri e l'Oriente vi guarda sorridendo. In quanto all'individualismo cristiano ecco una caratteristica che a noi non sembra particolarmente rilevante. Poiché esprime la società umana come nata in Occidente, ma in Asia l'unità fondamentale della vita consociata dal villaggio all'impero non è stato l'individuo, bensì fin dalle origini la famiglia. Anche qui il messaggio cristiano prende un aspetto rivoluzionario e penetra, sovvertendo nell'intimo, modi di pensare che costituiscono l'essenza stessa delle civiltà. Se l'insegnamento è così importante, se ne dipende la salute eterna, perché gli antenati debbono essere rimasti all'oscuro? E se gli antenati vedevano giusto, è proprio così importante questo nuovo insegnamento? Si ricorda infine che il pensiero dell'Asia, intuitivo, sintetico, ama includere più che escludere, abbracciare e sublimare più che distruggere e sostituire. Il nostro universo è solido, oggettivo, compartimentato, rigorosamente dualista. Ci viene naturale di scindere le cose in materia e spirito, bene e male, passato e futuro. Ci viene anche naturale di pensare in termini di verità assoluta ed errore, di religione vera religione falsa. Ma per l'orientale ogni religione è via, Tao, Michi. Ci sono vie più convenienti, più spedite, più coraggiose, più splendide, di come ci sono vie più tranquille, di minore impegno, ma tutte arrivano alla vetta. Si può salire il Monte Bianco per i lunghi e facili pendii del versante francese, come lo si può aggredire per le pareti eroiche della bremva o della sentinella rossa. Tutte portano alla suprema cupola di neve e di ghiaccio. Accettare il cristianesimo rinnegando e distruggendo un immenso, valido patrimonio spirituale è operazione dunque che ripugna profondamente all'animo degli orientali. Dall'altra parte non c'è scampo. Se alcune confessioni protestanti sono più larghe, il cattolicesimo non cede la minima lunghezza. o lo prendi o lo lasci. Per ora lo si è lasciato. L'unico modo di interessare l'Oriente al cristianesimo, dice spesso Somi, sarebbe di ripensarlo tutto, di presentarglielo non più legato alla filosofia greca ma a quella indiana e buddista. Non c'è altra strada. Somi oggi è di ottimo umore, quindi niente filosofia. Farlo parlare è del resto sempre una delle imprese più difficili. Quando sono arrivato dinanzi a casa sua l'ho trovato con un giovane prete cattolico italiano di non so che missioni. I due stavano sorridendo e raccontandosi delle storie buffe. Ci siamo presentati ed abbiamo preso strada per Oara. Padre Fustelli è sui 35 anni, ha una faccia cordiale ed aperta, più da uomo d'azione però che da pensatore. Come mai amico di Somi? Ci siamo conosciuti negli Stati Uniti, mi dice. Abbiamo passato tre anni nel medesimo convento. Sento già Somi che commenta stasera o domani. Poverino, in fondo egli un buon figliolo. Certo, giudicando così ad occhio e croce dalle impressioni di pochi minuti, mi sembra che Somi e Padre Fustelli ceglino due universi mentali lontanissimi fra di loro, se non addirittura opposti. Padre Fustelli esprime in ogni gesto, parola e sguardo, ne scorgo la faccia nello specchietto retrovisivo della checca, decisione, azione, compimento. Penso rappresenti la speranza di conquistare i pagani con le opere, scuole, ambulatori, stamperie o orfanotrofi. Via pericolosa. I pagani prenderanno fin quando farà il loro comodo, poi un bel calcio e rivederci, come già dimostrato. Non faremmo noi lo stesso con dei generosi buddisti che impiantassero istituzioni benefiche nelle nostre città? È chiaro comunque che Fustelli vuole veramente bene a Somi. L'amicizia è una cosa che supera tutte le barriere. Giurerei che il miracolo scatta soprattutto per la bontà di Somi, l'ultimo e supremo residuo d'oro di tutte le distillazioni umane, anima naturaliter buddica, anima naturaliter cristiana. La strada per Oara percorre una valle stretta fa le pendici del monte Iei, da una parte ed i poggi sopra Kurama dall'altra. Ogni tanto i fianchi si allargano, è il breve spazio pianeggiante che risulta appare subito terrazzato a risaie. Talvolta invece i monti incombono più vicini, allora ripidi boschi tinti dai colori d'autunno scendono fino a lambire le acque rumorose di un torrente. Passiamo attraverso alcuni villaggi di vetuste case coloniche, coi loro grandi tetti di paglia, d'un inconfondibile stile locale, stile così vigoroso che si ripete anche in lamiera. Qualche vile traditore del buon gusto ha infatti pensato di sostituire alla paglia che bisogna rinnovare ogni venti o trent'anni il metallo. Dopo un'ultima stretta ad una dozzina di chilometri da Chioto, ecco la conca di Campo Grande, cioè di Oara. Fin dai tempi remoti questa conca fu proprietà diretta della casa imperiale. Campi ed aristocrazia, la combinazione ovunque piena di fascino, medici, ville toscane, che in Giappone si manifesta in maniera particolarmente felice grazie ai culti millenari della semplicità e della natura portati alle più squisite raffinatezze. La conca, larga ma non troppo, aprica eppur serrata da ambo i lati, fra i alti monti severi e boscosi, è cosparsa di villaggi, di templi, di romitori. Le contadine portano ancora un costume speciale, sfruttato un po' sfacciatamente in certe occasioni a fini turistici, ma gustosissimo nel taglio delle stoffe e dei colori. Immancabile complemento la fascina di frasche che si carica come la brocca dell'acqua in Italia meridionale sul capo. Sono pochi i luoghi del Giappone, mi dice Jun, in cui si portino i pesi in questo modo. Esistono molte leggende sulle origini dell'agente Dohara. Che strana compagnia la nostra, un prete cattolico, un fiorentino divenuto missionario per convertire i buddisti e convertito invece da loro, un giapponese di famiglia cristiana che ha reagito contro l'ambiente immediato per i richiami di quello più vasto della propria civiltà. E tu dove stai? Qualcuno potrebbe chiedere, io? Vengo dalla luna, tutto ciò che è umano mi appassiona. Adesso, per esempio, come sarebbe delizioso poter frugare questi animi ricchi di esperienze che ricapitolano età intere del mondo. Ma è impossibile, sembra. Le cose importanti non si fanno comparire sulla scena così, per ordinazione, come le chicchere in un ristorante cinese. Forse ci vorrebbe una donna fra di noi. Jane, chissà, ma Jane è tornata a Tokyo da parecchi giorni. Del resto siamo tutti in ammirazione di quanto ci circonda. I complicati ponti ed abissi spirituali che ci legano o dividono restano silenziosamente nascosti. Abbiamo lasciato la macchina e continuiamo a piedi sotto un filare d'aceri, momigi, le cui foglie, d'ogni colore, filtrano la luce ed autunno con la magica ricchezza ad una vetrata gotica. Un bastione di grosse pietre coperte da licheni e borraccine fiancheggia la strada. Ad un certo punto vi sapre una scalinata tutta cosparsa di rubescenti foglie cadute dagli alberi che termina sotto un portale dal tetto leggermente ricurbo. Un gaku, un rettangolo di legno preziosamente incorniciato, mostra la scritta Sanzenin, Tempio 3000. Prima di salire sostiamo un momento sulla panchina d'un chaya, d'una capanna da tè, sorta improvvisamente lì dinanzi per il periodo in cui fioriscono i momigi. Perché 3000? chiedo a Somi, mentre una fanciulla di pensosa bellezza ci versa l'infuso caldo in una tazza campagnola. O quante ne vuoi sapere oggi? Si saranno stancati di contare? Uno, due, tre. Quando arrivi a 3000 sei belle stanco, no? Guarda che bimba, piuttosto. Non lo senti il profumo della bellezza? Inutile cercare di bucare la scorza di Somi quando non ha voglia di parlare. La contadinella Doara è certamente una chicca. Occhi come un figlia di quaggiù avrebbe potuto eternare nelle sue eterodosse visioni d'altre veneri. Carnagione come petalo di pesco ed una bocca che in francese potrebbe dirsi troublant, ma che in italiano non saprei come definire con parola precisa e dolcemente vaga allo stesso tempo. Secondo Jun, le grazie della contadinella non sono però di vero gusto giapponese. Seio Rashi Nobida è bellezza occidentale, dice. Occidentale o no, Somi ed io ne siamo entusiasti. Padre Fustelli, girando la tazzina da te nelle mani, torna al 3000. Somi è proprio costretto ad aprire i forzieri della scienza. La storia del 3000 è una dottrina del buddismo Tendai. Basta il nome del tempio per dirvi che qui siamo in territorio Tendai. L'universo è così sottilmente ed intricatamente composto e con tessuto che ogni minima sua parte sottintende la totalità. Dal fuggevole pensiero alle stelle, dal granello di polvere al Buddha, dicono i filosofi Tendai. Un pensiero è i 3000. I 3000 sono in ogni pensiero. Per 3000 intendono l'universo, il tutto. Tanti risultando, attraverso calcoli complicati, gli attributi degli elementi essenziali e le loro combinazioni. Una gigantesca tabella di Mendejev. Insomma, per la metafisica anziché per la chimica, osserva Jun, senza prendere molto interesse. Lui è per la scienza. Solo l'indagine umile e perseverante della realtà coi metodi scientifici potrà darci un quarto del mondo che non sia puramente fantastico. Non lo dice ora, ma gliel'ho sentito dire tante volte. Padre Fustelli ci guarda facendo una leggera smorfia nervosa con la bocca. Sembra qualcuno che traversi la strada con una donna che gli piace, ma con la quale non vorrebbe essere visto. La donna si chiama filosofia. Per un uomo in cui predominano le doti di carattere ed azione, essa prende subito un aspetto equivoco di Cocotte, a meno che non sia quella buona, salda, chiara, approvata e benedetta, ove il precursor Christi in rebus naturalibus, Aristotele, unisce i suoi lumi ai rebus gratuitis della rivelazione. Ma senti un po', Somi, osserva il padre, girando ancora la tazzina da te fra le dita, non ti sembra che i tuoi buddhisti tendai facciano una paurosa confusione fra essere e pensiero? Fra gli oggetti della conoscenza e la conoscenza stessa. Appena posta la domanda, come avesse buttato impudentemente un sasso, guarda me. Avverto subito che, se è abituato a discutere con Somi sin dai tempi in cui vivevamo insieme, gli secca adesso, in quanto sacerdote, trattare con levità cose serie di fronte ad un estraneo. Ma sta proprio qui la profondità della metafisica buddista. Scattasomi, che ormai è partito. Tutto è pensiero. Da noi Hegel e gli idealisti hanno fatto tanto chiasso per alcune ideucce in cui gli indiani Nagarjuna, Asanga, Vasubandhu li avevano preceduti di ben 12 secoli. Se l'avessero saputo sarebbero stati più umili, non ti pare? Volete una caratteristica parabola di stile Tendai? Quella dello specchio. Il suo splendore appartiene alla prima forma d'esistenza, è il Q, vuoto. Gli oggetti riflessi appartengono alla seconda, sono Ka, il contingente. Soltanto lo specchio è Chu, letteralmente ciò che sta in mezzo, cioè substanzia, Dharma Kaya. Tutti e tre gli elementi separati sono inesistenti, anche lo specchio. Senza la sua luce e senza i suoi oggetti riflessi non è più uno specchio. Dunque Q, Ka e Chu sono, esistono, solo in quanto sistema di relazioni in un tutto. Ecco che nell'universo il Samsara, il vortice illusorio del divenire, è altrettanto necessario del Dharma, del Logos. Nulla può sussistere separato dal tutto, né il tutto senza le sue ultime infinite complessità, intessute di vuoto e di contingenza. Isshin Sandai, un pensiero, tre verità. Quando Somi parla di queste cose, l'anima gli si affaccia dagli occhi e il fuoco di una vita intera dedicata all'avventura dell'intelletto, diventa bellissimo. Dioniso, oppure Mongiu, incantevole sapere. Poi appena si accorge che lo guardiamo affascinati, fa una smorfia, una sguerguenza, una risata e torna a parlare di Ka, di contingenti bischerate. Riecco la fanciulla con la teiera. Somi le chiede come si chiama, risponde Mika, che vuol dire tanta bellezza. Guarda com'è calettato bene questo nome, esclama lui, allora rivolgendosi a noi, e dopo in giapponese parlando a lei. Koibito wa naika? Ce l'hai l'innamorato? Io sì, rispose pronta alla ragazza ridendo, incantevole innocenza, di fronte ad incantevole sapere, e aggiunge Sokira sama oari ya arima senka? L'onorevole signor Costi non ce l'ha forse. Somi improvvisamente si rannuola, si impappina, trova una risposta adatta soltanto in ritardo e con sforzo. Io? Io sono un vecchio Buddha, ormai penso soltanto ai fiori o alle foglie di momiji. Certe volte le cose dette per scherzo, rivelano molto più di quelle dette sul serio. Ho l'impressione che le parole di Somi, pur sembrando scherzose, siano invece sincere. Strano, quest'anno c'è qualcosa in Somi che è diverso dal solito. Non saprei dire con precisione, sembra stanco, deluso, amareggiato. Una volta nessuno riusciva a sorprenderlo che non fosse in guardia. Una nuova crisi all'orizzonte? Chi lo può dire? O un nuovo amore? Di donne nella sua vita credo ce ne sia stata una sola. Bisogna che ritorni molti anni addietro con la memoria quando stavamo vicini di casa. Ero nei tempi della ribellione, delle crisi, delle scoperte sensazionali. Per lungo tempo si trattò da parte mia solo d'un sospetto. Somi, animale notturno, agiva in silenzio circondandosi come un dio tantrico di grande mistero. Qualche volta avvertivo però nel suo studio un profumo di indiscussa origine femminile, un'aura voluttuosa di squisito raffinamento. Un giorno vidi fra i libri un leggero guanto di filo, come usano le donne giapponesi eleganti. Un'altra volta, andando una sera tardi da lui per degli accordi su una gita da farsi lindomani, notai un'ombra che mi sfiorava correndo per la via. Era lei? La scia di profumo che l'ombra stava lasciando sospesa nell'area della strada somigliava in tutto a quella che rimaneva prigioniera nella stanza di Somi. Dopo mesi e mesi, per caso, un giorno l'amico si trovò con le spalle al muro quando una fotografia della donna cadde per terra, di tra le pagine di un trattato sull'arte indiana, appresi così che era poetessa. In Giappone gli artisti sono generalmente meno specializzati che da noi. Chi è artista d'animo si esprime attraverso vie traverse. Il poeta è anche pittore, il calligrafo è anche scultore o maestro di ceramica. Lei era anche danzatrice e nutriva una gran passione per tutto ciò che provenisse dall'India. Passarono altri mesi. Finalmente una sera la conoscemmo davvero. Somi, ritualista e maestro di simboli, non aveva voluto che l'incontro dipendesse dal caso. Topazia ed io fummo dunque invitati con indifferenza formale, ma importanza sostanziale, ad un cenino in un romito ristorante fra i boschi del monte di Levante. Romi era nervosissimo. Nessuno dei suoi amici immaginava che questa misteriosa persona esistesse. Noi eravamo i primi a saperlo e i primi a vederla. Capivo che entravano in gioco adesso per Somi dei valori che egli non aveva mai messo alla prova nella vita reale. La sua vanità di uomo, la sua aureola di rampollo finale delle 26 civiltà, nonché tutte le facce del suo buon gusto. Fummo un poco rattristati accorgendoci che Somi sembrava innamorato non tanto di lei quanto della situazione. Con che cura avevo preparato ogni più fuggevole particolare. Forse era venuto prima, nel pomeriggio, a disporre del toco noma, fiori, poesia, pittura, la perfezione dell'insieme toglieva il respiro. Oppure era lei che ci aveva pensato? Silenzi avvolgevano le cose vestendole di veli. Finalmente arrivò. Si intese un fruscio per le scalette e qualcuno con voce liquida e carezzevole disse «Gomen kudasai». Permesso? Era piccola, elegantissima, sottile. Si muoveva come uno stelo che sostiene un gran fiore nel vento. Il fiore era il suo sorriso, luminoso, mobile, non tanto espressione dell'animo, quanto una bravura acquisita d'una danza totale e d'ogni muscolo, quindi anche della faccia. Non era giovanissima, forse trent'anni, forse più, è difficile in Asia dire con sicurezza. Si capiva che accettava con dignità di regina l'amore di somi e che vi impegnava i sentimenti più turbinosi, ma non quelli più profondi. Così quest'amore simbolo, quest'amore rito ed illusione, quest'amore mandala e crittogramma, quest'amore in cui certo le estasi supreme dovevano somigliare alle volutà degli dei tantrici, nell'abbraccio delle loro shakti, si protasse per un periodo lungo di tempo, sempre misterioso, occulto, rivelato appena da scie di profumo, da occhiaie e sospiri da petali passiti da lunghe assenze. Poi, e non senza parecchio sollievo da parte degli amici, la poetessa e danzatrice di passacaglie indiane dovette sparire dalla vita di somi. Lui era tornato tutto agli studi e alle pratiche ascetiche, si alzava la mattina prestissimo, mangiava riso e fili d'erba, qualche frutto, beveva soltanto latte. La luce restava accesa fino alle ore più tarde della notte nella sua stanza. Ora, non più scie di rari profumi nel suo studio, ma scie di incenso, portatovi nelle pieghe di vari monaci buddisti che lo visitavano, per leggere grossi trattati sulla filosofia tantrica o antichi vangeli dei fantasiosi nomi, per esempio il Kongocho, la vedetta di diamante. Fu in questo periodo di ascetici languori che una sera Somi mi disse, vieni domani al Toji, forse vedrai qualcosa che ti interesserà. Allora convenuta, mi trovai all'ingresso di uno dei più grandi templi di Kyoto, la casa madre dello Shingon. Il buddismo Shingon, che Kobo Daishi introdusse dalla Cina alla stessa epoca in cui Denji Odaishi introdusse gli insegnamenti Tendai, secolo IX, aveva ed ha ancora oggi delle caratteristiche che lo distinguono in maniera personalissima da tutte le altre confessioni giapponesi. Filosoficamente siamo sempre nel dominio del monismo più assoluto, solo il pensiero è, il resto dicasi illusione, ma questa e tante altre verità di un ardito e complesso sistema non si presentano in astratto, vivono bensì nella simbologia di un empireo popolato di dei, semidei, titani, eroi, geni, furie ed elfi partoriti dai voluttuosi dolori di una frenetica fantasia. Sono le inesauribili bellezze, potenze, attività e cose misteriose del mondo, come dice Anesaki, divenute persone celesti. Ecco dunque, sin dalle radici, un profondo connubio con l'arte, con tutte le arti. L'universo stesso è il corpo del superbo Buddha Vairokhana, colui che illumina, è come lui, è il tutto, il suo gesto rituale, mudra, è lui. Questo è il punto dove si tocca la pratica liturgica dalla quale via la musica, l'incenso, il canto, si torna all'arte quasi schiudendo un cerchio. Lo Shingon e Somi sembrano fatti l'uno per l'altro, dall'origine dei tempi doveva nascere questo Somi. Lo si attendeva alle porte dell'ordine santo, che sia venuto dall'altra parte del mondo, sembra dar maggiori garanzie e meccanismi imprevedibili del destino. Gatto della filosofia, ecco la tua notte fosforescente di metafisici fiori. Somi ama ciò che è difficile, intricato, oscuro. Disprezza le facili passeggiate aperte a tutte le menti e le cattedrali d'incenso dello Shingon gli offrono i dieci gradini del sapere, nove dell'insegnamento apparente, Kenjiò, che si trasmette coi libri e la parola scritta, ma uno prelibato ed eletto, Mikkyò, che si trasmette solo per via orale, unicamente da maestri ad iniziati. Chi ha raggiunto il culmine eccelso, dice si partecipe dello Imitsu Shogon Shin, del cuore ornato di mistero. Questo è il regno di Somi. Egli vibra davvero soltanto se partecipa con tutto l'essere ad una palingenesi, ad una qualche eucaristia sublime. Che gelo, il puro pensiero, la sola testa. Ci vuole l'incanto dei sensi, la voluttà di un abbandono alla musica, ai profumi, alle forme visibili, e lo Shingon lo avvolge in meravigliosi giardini di simboli. Gli propone i sacri gesti, quasi una danza dell'immobilità. Gli parla per immagini sontuose, del diamante indistruttibile come le ultime verità, dell'utero fecondo, come lo è l'universo di dei, del loto calice agli immortali. Un fraticello mi fece entrare nel tempio. Percorremmo insieme sale e corridoi, traversammo cortili e giardini, per giungere finalmente ad una cappella dove stava svolgendosi una cerimonia raccolta ed insieme solenne. Il luogo doveva essere oscuro con qualsiasi condizione di tempo. In quel giorno bigio sembrava particolarmente cupo e misterioso. Sugli altari protetti da veli di stoffe colorate lucevano le superfici d'oro, o gli occhi dei Buddha, dei Bodhisattva, dei Dharma Araya, protettori della legge, in aspetti che andavano dalla serenità suprema dell'illuminazione raggiunta alla ferocia terrificante di paladini del bene che affrontano le forze dell'ignoranza e del male. Mi fu offerto un gran silenzio, uno zabuton, cuscino, in un angolo di buio assoluto dietro una delle colonne di legno della sala. Avvertivo, accanto a me, alcune altre persone. Mi parvero per lo più donne di una certa età, ma non riuscivo a distinguerle. Vedevo invece abbastanza bene ciò che si svolgeva al centro, fiocamente illuminato, della cappella. Il capitolo dei monaci stava leggendo in coro delle scritture sacre, con quell'affascinante cantilena baritonale che viene sottolineata dal battito di un cupo tamburo in ritmi ineguali. Tal volta, quando la lettura veniva sospesa per un momento, si intendeva un gocciolio di pioggia lungo una grondaia, chissà dove. Dopo non so quanto tempo avvertivamo quel caratteristico pesticcio di piedi scalzi sulle stuoie, quel fruscio di tonache e paramenti sacri che annunciano l'arrivo d'altri monaci, di importanti prelati. Entrarono in molti e si risposero ai loro posti. L'abbate, un vecchio magrissimo coperto di stoffe preziose, sedeva sopra un seggio di legno laccato. Un frate inserviente continuò a correggere e ricorreggere minutamente la disposizione delle pieghe della suntuosa pianeta perché tutto rispondesse alle regole, certo strettissime, del rito. La cerimonia sembrava complicata. Monaci venivano, andavano, bruciavano incensi, portavano offerte, sempre accompagnati dalla cantata lettura, dal ritmo di colpi sui tamburi, degli squilli, delle campanelle purissime. Ad un certo momento vennero umilmente davanti alcune persone. A prima vista sembravano dei monaci, ma poi capì che dovevano soltanto averne indossate le vesti, poiché portavano i capelli enormemente lunghi anziché rasati a zero. Fu allora che, fra questa gente, riconobbi Somi. Era serissimo, trasfigurato, pallido, straordinariamente bello. Cominciai a comprendere. Si trattava della cerimonia del cangio, suprema purificazione, termine che spesso viene tradotto come battesimo. È vero che di essa fa parte anche l'aspersione d'alcune gocce d'acqua sul capo del miste, ma, come al solito, si tratta solo d'omologie formali, non di somiglianze sostanziali. Il battesimo è un grosso avvenimento dello spirito. Attraverso di esso cambiamo la nostra invisibile cittadinanza. Dal gran fiume di incerto destino, eccoci salire alla riva della salvezza. Le parole stesse del fondatore sono chiare. È stato dato a me ogni potere in cielo e in terra. Andate dunque a distruire tutte le genti, battezzandole nel nome del padre, del figliolo, dello spirito santo, insegnando loro ad osservare tutto quanto vi ho comandato. Col battesimo vengono rimessi soltanto il peccato originale e quelli personali e l'anima non solo riceve un segno detto carattere, che lo distinguerà in eterno dai non cristiani, ma si apre all'infusione della grazia santificante e ai doni dello spirito santo. Infine, incorporata nella società di coloro che credono, diviene atta a ricevere gli altri sacramenti. Il cangio, invece, non è un rito magico, la cui validità dipenda da certe forme e di cui effetti siano indipendenti dal volere di chi lo riceve. Esso è ristretto soltanto a poche confessioni. In Giappone, Shingon, Pendai, Kegon e in esse serve unicamente a sottolineare l'ingresso nel più recondito ed esotetico dominio dei misteri. Ad un certo momento, Somi ed i suoi quattro o cinque compagni furono bendati con un velo rosso e si tennero pronti per il momento supremo della cerimonia. In terra, al centro della cappella, era stata posta una pittura, uno di quei quadrati, mandala, volgarmente detti magici, ma che invece sono delle rappresentazioni mistiche dell'universo nel suo scindersi ed organarsi in forme manifeste. Ad uno ad uno, mentre il canto della lettura si addolciva in sottovoce tenebroso e pur dolcissimo, l'eletto, levatosi in piedi dinanzi al mandala, bilanciava un fiore che un monaco gli aveva consegnato poco prima. Otto monaci scrutatori osservavano subito il punto dove era caduto la figura del Buddha o del Bodhisattva, se avesse sfiorato o colpito. Nasceva così un mistico legame fra quel potere divino e l'accolito. Quest'ultimo prendeva anzi il nome del suo nuovo celeste maestro di segreti e protettore di perfezioni. Somi si avanzò per ultimo, dopo un grosso uomo il quale sembrava piuttosto un commerciante di derrate alimentari che un eroe di mistiche ascensioni. Questi aveva combinato un mucchio di pasticci inciampando dove non avrebbe dovuto inciampare, spingendo un monaco addosso alla gente o gettando infine il povero suo fiore addirittura fuori dell'universo, tanto che uno degli otto monaci scrutatori, non visto dagli altri, mi parve, aveva dovuto rimuovere leggermente la pittura stessa in modo che il fiore ne toccasse almeno il bordo. Dopo questi incidenti sembrò meravigliosa l'elegante e sciolta sicurezza dei suoi gesti coi quali Somi compì gli atti prescrittigli dalle esigenze del rito. Il suo fiore, una di quelle gardenie che in Giappone sbocciano nei giardini nel mese delle piogge, andò a cadere dritto sull'immagine di Vairo Kana, la grande luce, il cui corpo e la sostanza del cosmo. Ciò parve evento straordinariamente felice e tutti si congratularono con l'unico straniero che non solo avesse affrontato questo episodio liturgico irto di simboli, ma che l'avesse portato a termine con tanto successo. Ricordo che ero molto commosso, da una parte stava il legame personale con Somi, amico in un certo modo di infanzia, e ora personaggio accettato e benvoluto in questo mondo così diverso da tutte le amate e le usate cose, retto da principi e costumanze che potrebbero soltanto prevalere in un altro pianeta. E, per contrasto, tanti ricordi campagnoli e casalinghi mi si affollarono alla mente. Che so io, le mezzine dell'acqua in cucina dell'assunta, i duri di menta o i brigidini alla fiera dell'impruneta, certe scappate coi compagni di scuola per rubar l'uva a fiesole o fare il bagno in arno a candeli, sovrapponendosi e contestendosi al canto col quale i monaci evocavano le visioni mistiche e metafisiche d'antichi filosofi indiani alla presenza di un'arte simbolica, surreale e voluttuosa insieme, allo spettacolo, d'un rito che aveva in sé la dolcezza d'un ballo e la paurosa profondità d'un mistero. Ma sotto questa fanciullesca commozione, fatta di meraviglia e contrasti, penetrava il calore veramente religioso d'un senso d'unità sostanziale fra gli uomini dinanzi agli inspiegabili misteri della vita e della morte, dell'essere e del nulla, uniti alle partenze, siamo diversi agli arrivi, ma non è aperto sempre un incontro. Poi vera l'assoluta sincerità di Somi, altra cosa che mi sembrava profondamente commovente, vedevo in lui un simbolo dell'eterna avventura umana dinanzi ai misteri che ci stringono ed assediano da ogni parte, in lui si assommavano, forse si integravano millenni d'Occidente e d'Oriente e non si trattava di un simbolo astratto, ma di una persona viva a cui mi legava la più dolce delle amicizie, quella che ha le radici nelle origini comuni. Così, attraverso di lui e grazie a lui, questa commozione, questo slancio interiore si irradiava sugli altri intorno. Forse intravidi per la prima volta il senso indiano e buddista della Maitri, della Karuna, il limitato e benevolente amore per tutti gli esseri senzienti, superiori a te, inferiori a te, che vivono e si nutrono di te, libero da odi, da inimicizie e da rivalità, sutta nipata. E fu allora, forse, che bruciai in me gli ultimi residui di quei sentimenti di esclusione e privilegio che ci vengono instillati dall'educazione occidentale. Ripenso alle prime esperienze in Asia, non il Tibet nel 1937, in quel viaggio aereo ancora troppo giovane e troppo preso dalla meraviglia continua di quanto andavo scoprendo nell'Eso, montagne, deserti, città, monasteri, popoli, arte e negli endo, filosofie, religioni, universi. Ma piuttosto il Giappone dal 1938 in poi. Qui non si trattava più di una gita grandiosa, di un tuffo in strane esoticherie, da cui si torna tosto al normale, al pane, cioè dopo i nidi di Londine, a Donatello, dopo Elefanta, a Botticelli, dopo Lee Lungimen, a Cartesio, dopo Nari Juna, a Leopardi o a Blake, dopo Milarepa o Lipo. Qui ormai era vita, normalità, lavoro. Avevo tempo non solo di ammirare e di restare stupito, ma di respirare un'aria che portava ignoti profumi, di penetrare soprattutto, di riflettere. Ecco intorno a me un grande popolo, la cui civiltà, conoscendola meglio, appariva, benché profondamente diversa, ognora più chiara e luminosa. Dunque la necessità della filosofia greca, dell'arte classica, del cristianesimo, senza di cui mi era stato insegnato, ed avevo sempre letto, che non vecchie barbarie risultava invece da provarsi. Molti erano addirittura gli argomenti a portata di mano per sostenere una tesi completamente opposta. Non solo vedevo la civiltà in tutti i suoi più appariscenti e nobili aspetti, quale l'arte, la religione, la poesia, fiorire nutrendosi di linfe diverse da quelle a noi consuete. L'umile pratica quotidiana della gente mi rivelava un senso morale spesso di molto superiore a quello che le tante altisonanti dichiarazioni di principio ci avrebbero dato il diritto da attendere dagli occidentali. Certo erano facili ascorgersi anche i lati negativi di questa nuova vita che mi circondava, ma la loro somma era subito controbilanciata da quelli della nostra. Nessuno, dunque, poteva dirsi davvero il favorito degli dèi. Eravamo tutti assolutamente sullo stesso piano esseri umani. Adesso non riuscivo a capire come mai mi fossi lasciato cullare per anni senza rivoltarmi da numerose e assurde credenze. Forse era stato facile perché mi avevano insegnato che noi siamo gli eletti, i redenti, i favoriti dalla fortuna cosmica, gli illuminati dalla vera luce, dal vero sole. E loro, tutte le centinaia di milioni di loro, oltre i confini della cristianità, i poveri diseredati, brancolanti nel buio, creati e distrutti senza plausibile ragione, una sottospecie d'uomini, un'umanità potenziale da attuarsi soltanto appienamente col battesimo, non molto dissimile, da un punto di vista metafisico, dal popolo degli animali, delle savane, o delle foreste, o nelle acque. Ma un Dio che favorisce certi suoi figli, lasciando agli altri nel buio, concedendosi, rivelandosi ad un certo momento nella storia e in un sol punto della terra, è davvero Dio? Sembra legittimo, perlomeno, un forte sospetto. Non si tratta più probabilmente di un mito tribale, esaltatosi e rivestitosi rispettabilmente di filosofia? Se tutti i popoli della terra dicessero che so io dei baschi, dei maori, dei monofisiti, dell'ordine di Malta, dei tranvieri, dei bramini, dei sessantenni, di un gruppo umano qualsiasi e quei possessori della verità rivelata, gli eletti, i figli del cielo, seguiamo i loro insegnamenti. Vi sarebbe un certo senso, ma la storia risuona solo nel pronome noi. Noi siamo gli eletti, noi siamo i depositari dell'ultima fortuna che apre i segreti del cosmo, noi siamo i principi del creato. Ora tutti sanno com'è facile ingannarsi sulla propria importanza relativa nello schema generale del mondo. O Dio si rivela a tutti perennemente attraverso le sue opere, oppure la rivelazione, come è intesa in Occidente, diventa un atto di favoritismo così inaudito che, parafrasando la prova ontologica di Santo Anselmo, diremo di non trovarci più di fronte alla causa suprema, mancandogli una delle perfezioni, la giustizia. Quando camminavo solo per Tokyo, circondato dalle folle esterminate di giapponesi, per esempio la sera alla Rush Hour, ora di punta, mentre passavano le tramvie strapiene ed era quasi impossibile trovare un posto nella metropolitana, pensavo spesso a queste cose. Guardavo agli occhi degli uomini, delle donne, e dei bambini, che incontravo ed incrociavo, intuivo gioie, sofferenze, bontà, stupidaggini, cattiverie, eroismi. Erano uomini, donne, bambini, come noi, come voi tutti. La loro esistenza fisica e psicologica era piena, calda, aveva la nobiltà delle cose vere. Con che diritto si negava loro un'esistenza metafisica altrettanto calda, piena, vera? Eppure mi era stato insegnato che spiritualmente appartenevano a un regno della penombra, che non essendo battezzati mancavano di un ultimo segno per godere i supremi diritti dell'essere umano, come cittadino, non della carne, ma dell'universo. Vissi così un lungo, intimo, doloroso travaglio, poi un giorno, dopo molto tempo, ma corsi con un senso di pace e sernità che aveva vinto l'Asia. Non ero davvero divenuto buddista, sono troppo occidentale nello spirito, troppo attaccato al samsara, al fascinoso vortice del divenire, per praticare una filosofia di tanto sublime rinuncia, ma sentivo ormai lontano, come una cosa che riguardasse un'altra epoca, quel primo comandamento su cui sono fondate in maniera simile le tre grandi religioni dell'Ovest. In sostanza, l'inizio del decalogo mosaico per il giudaismo e il cristianesimo, le prime parole del Corano per i musulmani, qui solo sta la verità, altrove è l'errore, soltanto queste sono le chiavi.